Siamo partite da dieci minuti, si può sapere che vuole Mark? Non lo so Ok, questa è brutta, ha scoperto che Lexi sta con Avery, è fuori di sé Lascialo stare! Travolo! Dai, questo è un momento per noi, è solo per noi, è la prima cosa che puoi fare è parlare con Mark Ha detto che andava bene, ok, va bene, sai che ti dico? Chi sei? Adesso parlo con lui Non ti azzardare a chiamarlo Questa è gelosia, Arizona, tu sei gelosa di Mark, fatela passare E puoi diasimarmi? Insomma lui ha quasi tutto di te, la donna normale, la cattolica, quella che adora le feste dei bambini Ammetto che ha solo la donna gay che è appena 20 minuti la notte e ultimamente nemmeno quelli perché ti senti troppo grassa per farti toccare Senti, cerco di fare del mio meglio, per fare in modo che tu sia felice, che Mark sia felice, che la minuscola persona che cresce dentro di me sia felice Non lo so che altro potrei fare, onestamente, per favore dimmelo perché lo farò, qualunque cosa ti faccia felice la farò Ecco Comunque si deve sfidare il sistema ogni tanto, scommettere forte Sposami Parlo sul serio Ti amo più di qualsiasi cosa, ma voglio di più, voglio impegni, voglio le fedi Perciò Sposami E quando ottieni i risultati che volevi, non c'è sensazione più bella al mondo Ma quando non li ottieni Sì Grazie.